Stanno facendo questo in tutta la città, guardateli, guardateli adesso. Guardate questi qua in pieno centro, guardate qua, Lamborghini. E non mi riservo un terreno di mamma, no? Ha risentito, ha risentito. E nessuno interviene, guardate. Sanno 4 o 5 macchine, nessuno interviene. Ora faccio vedere adesso che partano. Aspettiamo che partano. Stanno facendo questo in tutta la città, guardateli, guardateli adesso. Guardateli, è incredibile. Non c'è nessuno in città, non c'è nessuno in città che controlla. Fossimi in periferia, è allora sì. Stanno facendo questo in Italia. Grazie. Grazie a tutti.